Il premio nazionale di giornalismo, premio Atri, festeggia 60 anni in occasione della dodicesima edizione e lo fa con un parterre d'eccezione nell'appuntamento di sabato 19 ottobre alle ore 18 nella caratteristica location del teatro comunale di Atri. Un compleanno importante per una rassegna nata nel 1964 nella città ducale e che per opera dell'associazione culturale Atri per Atri guidata dal giornalista Andrea Spada è tornata dopo mezzo secolo dall'ultima edizione del 2022 con un grande successo di pubblico e ospiti dell'informazione nazionale con la presidenza onorare di Gianni Letta. Sì, anche quest'anno il concorso che tra l'altro ha come direttrice, e questa è una novità per i 60 anni, un bel regalo che ci ha fatto la dottoressa Maria Concetta Mattei, volto noto del Tg2, direttrice della Scuola Superiore di Giornalismo di Perugia che appunto sarà la Presidente e la Presidente del concorso, sono arrivati molti elaborati per questo concorso nazionale da tutta Italia un premio che arriva a 60 anni perché è nato nel 64, sempre ad Atri e che appunto per questa occasione avrà tanti nomi importanti della carta stampata, della televisione, insomma un po' il panorama dell'informazione generale. Avremo tra l'altro anche il direttore di questa emittente, Carmine Perantuono, il neodirettore del centro, Luca Terese, ma anche tanti nomi ugualmente importanti. Una sezione speciale del premio è stata riservata da elaborati e redatti dagli studenti delle scuole superiori della regione Abruzzo. Ai vincitori della sezione scuole sarà assegnato un premio che prevede l'iscrizione gratuita al primo anno accademico presso l'Università degli Studi di Teramo. È un'occasione anche questa di promuovere anche l'Università di Teramo in ambiti che insomma le appartengono, come dicevamo, sia dal punto di vista della didattica che della ricerca. Un applauso va all'intera organizzazione del premio perché ogni anno abbiamo a che fare con un parterre veramente di eccezione. Prefetto Stelo, anche in qualità di giornalista, farà parte della giuria della dodicesima edizione del premio Atri? Un grande onore e un grande piacere. L'anno scorso fui tra i premiati, l'iniziativa ormai che sta prendendo piede. Basta vedere il nome dei premiati, insomma anche quest'anno, veramente una bellissima iniziativa che fa bene al giornalismo in genere, oltre che ovviamente alla provincia di Teramo, a Atri in particolare in questo caso. Grazie.